Ciao a tutti e benvenuti al primo di una serie di video dove vi mostrerò come è possibile creare un proprio brano utilizzando Cubase. Utilizzerò Sample, Virtual Instrument e vi mostrerò le principali funzioni di editing utili per una produzione. Non preoccupatevi se non avete mai utilizzato una DAO, ovvero una Digital Audio Workstation, è così che si chiamano i programmi appunto per la registrazione come Cubase, poiché cercherò di essere il più chiaro possibile cercando di non tralasciare nulla. In questo primo video infatti andremo a vedere come configurare la nostra scheda audio. Quindi andiamo su Studio, Configurazione dello Studio, andiamo su VST Audio System e qui in alto nel menu a tendina avremo diversi device. In questo caso io ho selezionato Universal Audio, Thunderbolt è la mia scheda audio e mi dice se desidera cambiare il driver asio, cambia. Ora andiamo a vedere i principali valori che ritroviamo. La latenza di ingresso, la latenza di uscita e la frequenza di campionamento. Quest'ultima è molto importante. Non so se mi sarà mai capitato di importare all'interno di un programma di registrazione un file audio e ascoltare che questo è più veloce di come lo ricordavate o addirittura sembra in un'altra tonalità. Ci provate a suonare sopra e non riuscite neanche a... non sembra neanche di mezzo tono, sembra un quarto di tono sopra o sotto. Questo è perché la frequenza di campionamento con il quale è stato registrato è in un modo e il vostro sistema, la vostra scheda audio, sta lavorando ad un'altra frequenza di campionamento. Quindi la cosa che dovete fare è andare sul pannello della vostra scheda audio ed impostare la vostra scheda audio con lo stesso valore del file. Con il file è semplice, normalmente se cliccate con il destro sul file e andate su proprietà, dovreste vedere 48 kHz, 44 kHz. Quindi se io in questo caso importassi qui un file registrato a 48 kHz, io in questo momento ho la scheda audio impostata a 44 kHz e 100, quindi sarebbe tutto bene o male sballato. Poi andiamo a vedere le opzioni avanzate, qui abbiamo la precisione del processamento, infatti se fate caso ci sono file registrati a 24 bit, quelli più vecchi sono 16 bit. Qui abbiamo la possibilità di registrare a 32 bit, float vuol dire a virgola variabile, e 64 bit a virgola variabile. Non entriamo nel dettaglio, ma vi consiglio di attivare la funzione multiprocessore, in questo modo automaticamente il vostro Cubase andrà ad utilizzare i più processori del vostro computer, se ne dispone, e attivare ASIO Guard. Per quanto riguarda la latenza di ingresso e di uscita, come possiamo modificarla? Basta che andiamo sotto WST Audio System sul nome della nostra scheda audio. In questo caso ci viene riproposta e clicchiamo su pannello di controllo. Il pannello di controllo ci fa modificare un valore che è il buffer size. Perché è importante la latenza di ingresso e di uscita? È importante soprattutto nella registrazione. Poiché se noi dovessimo avere una latenza di ingresso o di uscita comunque alte, se io sto registrando una chitarra, io suono, ma avendo una latenza alta, io sento in cuffia o dai monitor il suono della chitarra che arriva effettivamente dopo. Quindi andiamo ad agire sul buffer size. Il buffer size può avere un valore minimo di 32 e un valore massimo di 2048. Cliccando su 32 andremo a diminuire, ora vi farò vedere come questo arriverà tipo ad 1. Quindi 32, close, 1,293 millisecondi. Mentre 2048, 47 millisecondi. In questo caso sarebbe impossibile registrare o comunque andare a tempo con un metronomo. Quindi qual è la regola, diciamo, base? Registrare a latenze basse, quindi a valori di buffer bassi e mixare a valori di buffer alti. Cosa comporta però questo? Se io ho un buffer di 32, la mia CPU andrà a lavorare molto. Invece a 2048 lavorerà meno. Ecco perché si cerca di utilizzare dei valori intermedi come per esempio 256. Qui invece abbiamo proposte gli ingressi. Io in questo caso comunque due ingressi attivi e due uscite. Queste cose le possiamo andare a modificare cliccando su F4 oppure studio connessioni audio. Qui posso andare a gestire gli ingressi, le uscite, i gruppi, gli effetti esterni, strumenti esterni. Ma è la control room, ma non ci interessa questo al momento. Ingressi, per esempio, io posso aggiungere. Clicco con il destro, aggiungi bass, posso aggiungere un ingresso mono, un ingresso stereo, per esempio. Ok, qui viene riproposto e qui abbiamo la porta della periferica. Bene, ora, prima di iniziare, vi voglio far vedere come è possibile andare a impostare il metronomo. Secondo me, in realtà ci sono due modi, anche se può essere utile questo qui, cioè andare ad aggiungere proprio una traccia tempo. Clicco con il destro, aggiungi una traccia tempo. In questo caso io posso andare a, per esempio, ecco, viene riproposta così, posso attivare la traccia tempo e, come vedete, appena vado sulla riga, questa diventa, da cursore diventa una penna. Quindi posso cliccare e aumentare o diminuire. Vi faccio vedere qui, per esempio, 65, 50, ok, e poi sale, per esempio, 150. Ora, come posso attivarlo? Posso cliccare qui, su attiva il click del metronomo, oppure vedete che c'è scritto tra parentesi C, quindi è il tasto C, attivo e disattivo. Ascoltiamo cos'è che cambia. E automaticamente, quindi, il metronomo segue l'impostazione che abbiamo fatto, che la ritroviamo anche qui, e possiamo anche bloccare questa traccia. Oppure, possiamo andare, con un doppio clic, per esempio, a modificarlo qui. Possiamo inserire un valore, 85, a questo punto viene riproposta, come potete vedere, non andrà più, a questo punto, ad andare a cambiare. Con la funzione che abbiamo inserito precedentemente. Nel prossimo video, inizieremo a creare il nostro brano e vi farò vedere il primo virtual instrument, che ci servirà per creare la batteria, ovvero Groove Agent. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!